Canale Youtube di Luigi Gaglio L'incastellamento Allora nel novecento non abbiamo studiato, non abbiamo approfondito ma ci sono state parecchie invasioni nell'Italia parecchi popoli che sono provenienti diciamo da altre regioni per esempio gli Ungari oppure i Normanni che sarebbero i vichinghi oppure i Saraceni provenienti diciamo dalle regioni arabe sono arrivati nelle nostre zone nelle nostre regioni a invadere, a razziare a saccheggiare dato questo fatto, questo evento è chiaro, evidente che i signori che si trovavano in Italia hanno organizzato delle difese insomma la gente doveva difendersi ovviamente di fronte a queste razzie a questi saccheggi dei Saraceni un po' però avevamo parlato vi ricordate no? delle loro basi da cui partivano per fare queste razzie una base, vi ricordate abbiamo detto era quella di Frassinetto in Provenza ebbene organizzazione autodifesa costruzione di opere di fortificazione ecco l'incastellamento la creazione la costruzione di castelli all'inizio i castelli vengono costruiti un po' rozamente in legno quindi diciamo fortificazioni in legno dobbiamo qui ricordare anche il latino per capire un po' i termini che noi adesso utilizzeremo nella nostra spiegazione anzitutto il termine castello è una sorta di diminutivo vezzeggiativo non so diminutivo diciamo meglio derivante da un termine latino che è il termine castrum castrum in latino vuol dire fortino fortificazione castello piccolo piccolo fortino piccola fortificazione ed è quello abbiamo detto il termine che sarà più utilizzato e che noi ovviamente utilizziamo visto che stiamo parlando dell'incastellamento ma non è l'unico termine ci furono anche altri termini noi leggendo il testo di Edgar da Ferri della gran contessa di Edgar da Ferri troveremo questi altri termini e allora se non l'abbiamo già letto come spero che abbiate fatto nel momento che non si riesce a leggere un libro del genere il giorno prima del 25 maggio il giorno prima del compito di italiano o di storia comunque come volete chiamarlo o definirlo del 25 maggio allora stavo dicendo quindi che in questo libro troveremo diverse definizioni per esempio il forte anche questo è abbastanza chiaro quindi sta a indicare il forte la fortezza sta a indicare quindi che doveva essere un baluardo contro le invasioni contro chiunque insomma si ponesse in modo minaccioso minacciasse appunto il territorio altro termine interessante è quello del maschio il maschio angioino oppure il mastio il mastio secondo me tra mastio e maschio c'è un'analogia sono convinto per esempio il nostro romanzo che leggeremo cioè la gran contessa incomincia e finisce proprio nella residenza del mastio di carpineti quindi siamo sempre nel modenese è lì che appunto c'è quella storia di quella razza che poi ciclicamente ritorna alla fine del romanzo della della gran contessa ecco questi sono un po' i termini utilizzati per indicare quindi questa fortificazione guarda un po' neanche a farlo apposta nella pagina 217 c'è un disegno una ricostruzione di quale castello nel castello di Canossa proprio e così possiamo vedere questa residenza che noi ben conosciamo perché sappiamo che quella dove Enrico IV è arrivato a chiedere il perdono insomma dove nel corso del romanzo ogni tanto si rifugiano i nostri protagonisti avete notato però che Matilde non è che abiti sempre a Canossa anzi dimorerà in tanti altri posti e ve lo chiederò nel corso della verifica del 25 maggio dove è andata ad abitare Matilde nel corso del suo questo è proprio il castello originario provate a pensare in modo particolare a Sigifredi cioè il fondatore della dinastia degli attoni la dinastia degli atti degli attoni Sigifredi oppure il suo successore Adalberto Atto Adalberto Attone che sarà quello insomma che come dire come abbiamo già spiegato vi ricordate quando abbiamo spiegato la Gran Contessa ricordatevi che ci sono anche i file audio sulla Gran Contessa sul sito Adalberto che sarà colui che renderà molto più espanderà e allargherà moltissimo il feudo dei Canossa a partire da questo nucleo originario di questo territorio così ristretto fino a poi a diventare come ben sappiamo con il padre di Matilde e con Matilde stessa una sorta di grande vicaria imperiale una sorta di grande Margravio era suo padre grande Marchesa insomma che aveva potere come ben sappiamo dal Lazio fino quasi alle Alpi allora stavamo parlando del castello di Canossa come vedete si tratta di una residenza comunque molto limitata quando noi andiamo a visitare questi castelli medievali notiamo che sono molto rozzi sono molto cioè non ci sono per esempio grandi testimonianze di sfarzo di anzi vediamo che ci sono provate a vedere per esempio riuscite a vedere dove è l'ingresso principale del castello di Canossa è una porticina con una scala che si trova lì a sinistra piccolissima si fa quasi fatica a vedere vedete che per esempio questo castello non è circondato da un fossato come magari nel nostro immaginario pensiamo ai fossati ai ponti elevatoi beh qui forse non era necessario perché spesso castelli erano costruiti su un'altura come appunto questo proprio per sfruttare la questione dell'altura per difendere il territorio senza bisogno di costruire un fossato all'intorno ma la porta principale è proprio piccola piccola piccolissima quindi non ci sono portoni in questo caso non troviamo neanche quelle saracinesche di grate che spesso si trovano dove c'è il portone principale e poi poche pochissime dimore di servi una piccola chiesa un chiostro quella dove possiamo immaginare insomma si è inginocchiato Enrico IV e poi il palazzo dei marchesi ma poco altro non finestre ma feritoie non riscaldamento centralizzato non acqua corrente pavimenti addirittura spesso ricoperti di paglia o di stuoie mobilio scarso ed essenziale cassa panche sgabelli tavoli letti qualche rara credenza e poi soprattutto quando noi andiamo a vederli non li possiamo vedere arricchiti delle tappezzerie cuscini tende drappi stoffe ricamate pelli e pellice che forse c'erano invece all'epoca si tratta comunque questo lo si vede proprio è un castello di difesa poi piano piano verranno costruiti castelli sempre più grandi dove c'è una vita proprio dentro e lì allora le cose saranno completamente diverse e diciamo che ci sarà anche una maggiore ricchezza ecco ma questo è proprio il castello di Canossa insieme a un tipico esempio di quello che poteva essere un castello nel novecento dopo Cristo epoca che noi appunto stiamo stiamo analizzando e stiamo studiando cos'altro vediamo ah sì le torri ecco le torri sono molto importanti qua dice per esempio che nelle torri del castello di Canossa c'erano gli alloggi per le guardie quando studieremo i comuni se li studieremo forse non li studieremo per niente però almeno un accenno riusciamo a intuirlo leggendo anche quel romanzo della gran contessa riusciamo a capire il momento del passaggio proprio verso la morte di Martiri del passaggio dalla fase diciamo del sistema feudale alla fase insomma del sistema comunale dei comuni del potere dei borghesi della classe l'ascesa della classe della borghesia anche nelle città e nelle comuni verranno costruite delle torri ci saranno fortificazioni quindi anche nelle città spesso soprattutto nelle città ma anche qui nelle campagne queste torri questi castelli eccetera hanno proprio il significato di rappresentare il potere il potere di una famiglia castelli verranno costruiti anche nei secoli successivi quando non ci sarà più l'incombenza delle invasioni questo il novecento è un secolo tremendo a causa di tutte queste invasioni di di Normanni di Ungari e di Saraceni i secoli successivi dopo l'anno 1000 ci sarà una rinascita vedranno una situazione diciamo un po' migliore da questo punto di vista ci saranno meno invasori eppure si continueranno a costruire castelli e la verità i castelli poi svolgeranno funzioni diverse stavolta come vedrete nel 1100 1200 eccetera spesso serviranno non per difendersi dagli invasori ma per difendersi da altri signori voi studierete e leggerete in questo romanzo spesso di contrasti di lotte di guerra interne tra i signori cristiani e studierete di come Urbano II abbia poi indetto la prima crociata proprio per per far sì che queste forze questi questi impulsi bellicosi si volgessero verso altri verso l'altro diciamo e non all'interno dell'Europa cristiana ecco il castello è il simbolo del sistema feudale comunque il sistema feudale è basato soprattutto sull'autarchia quindi sulla autosufficienza nel castello a dire la verità così come è concepito un castello del genere per esempio non è che sia così tanto facile viverci per tantissimo tempo non c'erano fonti sorgenti d'acqua eccetera però altri castelli poi si organizzeranno anche per una sopravvivenza all'interno di questo castello magari nel momento di un assedio anche per un certo periodo di tempo e poi piano piano i castelli verranno inglobati sempre più dimore di vengono inglobate dimore di villaggi dimore di artigiani eccetera comunque è chiaro che dopo Carlo Magno ecco sì Carlo Magno sì l'avete studiato quindi dopo questo grande progetto di un'Europa centrale cioè in mano ad un potere centrale forte diciamo che piano piano con il declino dei carolingi questo grande progetto viene a decadere e poi piano piano c'è il sistema dell'ereditarietà dei feudi prima verranno resi ereditari i feudi maggiori poi con il capitolare di Chiersi poi con la costituzione dei feudis diventeranno ereditari anche i feudi minori e quindi questi signori diventeranno sempre più indipendenti autonomi e la cartina dell'Europa non sarà più una cartina con un colore dominante sacro romano impero ma sarà una cartina che noi dobbiamo immaginare tutta a chiazze una specie di puzzle quindi dove è presente la grande parcellizzazione diremmo la balcanizzazione del potere il potere quindi suddiviso il signore del posto il feudatario diventa quasi del tutto autonomo il potere centrale dell'imperatore o del re è molto labile in questo periodo e quindi lui ha un potere quasi assoluto sul territorio attira la popolazione contadina nel nel castello e crea una specie di un sistema chiamiamolo così un'organizzazione territoriale particolare per cui immediatamente all'esterno del castello si trovano spesso gli orti poi subito dopo si trovano colture di pregio come vigneti e frutteti e poi si trovano i seminativi quindi cereali e infine il bosco e l'incolto insomma il territorio si organizza in questo modo ed è a questo proposito adesso che noi approfondiremo il discorso parlando dell'economia curtense quindi dell'economia che ha come centro questo castello e quindi il potere del signore del piccolo signore feudale altri video didattici su a tuttascuola.it a da Grazie a tutti.